Rizzo allora facciamo intanto un flash sull'ultima partita, la prima sconfitta stagionale. Le sviste palesi della terna arbitrale non devono però rappresentare un alibi, sarebbe un grave errore. Sì, sì, come hai detto tu, dobbiamo pensare alle nostre cose di campo e gli albitri, lo so che è stata una partita un po' così per loro, però va bene così ora guardiamo avanti. Guardiamo avanti, significa tornare a fare punti, magari anche vincendo a Chiavari un altro scontro diretto contro una squadra che sta rendendo al di sotto delle aspettative un rendimento altalenante quello della formazione Ligure. Sì, sì, Chiavari sarà una battaglia, non è una partita perché loro hanno un grande organico quindi c'è da battagliare e penso saremo pronti. Che campionato è questo? È ancora presto per dirlo, sono passate, trascorse sette giornate, ti sei fatto già un'idea? No, 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 ancora è lungo il campionato, c'è squadre come Modena che sono ancora dietro però è un grande organico quindi ancora ci vuole tempo. Il Pescara subisce troppi gol con estrema facilità, è questo il problema? In settimana facciamo molti allenamenti per questa cosa che hai detto tu però ce la mettiamo tutta noi, poi c'è anche le altre squadre che sono brave, quindi niente. Invece sul tuo ritorno a Pescara che cosa ti ha spinto? No, niente, mi ha spinto che mi hanno chiamato qui e io ho accettato subito, il Pescara sono stato benissimo io, io non volevo andare via però è capitato che sono andato via però adesso l'importante è che sono tornato e sono molto felice. Senti, oltre 300 presenze in carriera, spese in Serie B, Serie C, anche un po' di A col Pescara, ti manca però di vincere qualcosa ancora no? Ancora non ho vinto niente, speriamo, non dico niente però speriamo di fare un grande campione qui a Pescara e basta, non dico più niente. Non dici più niente, è meglio far parlare sempre i fatti anche perché tu sei un ragazzo di poche parole, appunto Chiavari, che cosa conoscete in particolare di questa squadra perché l'avrete studiata immagino? Sì, il campo sicuramente che è sintetico, che sarà diversamente dal campo normale e poi hanno un'ottima squadra, quindi dobbiamo mettere la tutta per fare una grande partita.